Numero 5, come alle sue buone chance, anche il numero 7 di Subsonica Griff, insieme all'11 di Sharif Derum. Questi cavalli dovrebbero giocarsi il successo, attenzione poi in chiave piazzamento a Santa Monica di VS, numero 12, a Scar Victory, numero 4. Hanno sgambato entrambi bene nel corso del pomeriggio, per allargare il discorso, poi a Saltare Fonte, che deve un po' costruirsi lo schema, anche se un po' in GBA ha ottima forma, però per lei lo schema non si preannuncia semplice. Muove la macchina, allora, ottava e conclusiva corsa all'ippodromo delle Capannelle, Tris Quartè Quintè, 14 al via, 1 Samsara, 2 Scheller Go, 3 Scarpena Jet, 4 Scar Victory, 5 Schedule Mar, 6 Sexy Model 7, Subsonica Griff, in seconda fila 8, Stelvio Live, 9 Scintilla MP, 10 Satorer Fonte, 11 Sarif Derum, 12 Santa Monica di VS, 13 C-Point GBA, chiudono il 14, Sin Miedo. Quest'ultimo, un netto favorito, quota di poco superiore al mezzo, quando il gioco è ancora aperto, si lancia addirittura dalla seconda fila, Sin Miedo, prova a sorprendere tutti, allo stacco, Sin Miedo, con una partenza, è partito con l'otto, va al comando, ci prova su Scheggia Almar, poi Scar Victory, ancora il numero 6. di Sexy Model, Scheggia Almar, difende la posizione da Sin Miedo, vuole correre davanti, Lucio Becchetti, l'aveva annunciato ai nostri microfoni, e così dopo 400 metri in, molto veloci in, 28, conduce su Sin Miedo, poi Sexy Model, ancora a Scarvico, dell'esterno si impegna Santa Monica di VS, che offre prezioso punto di riferimento per Subsonica e Griff, 600 di rallentamento per Scheggia Almar, si muove in mezzo alla pista, si può in GBA, che prova a sfruttare rallentamento la parte della testa per guadagnare posizioni, adesso si trova ai fianchi di Subsonica, prova a scavalcare Santa Monica di VS, la frazione in curva in un tranquillissimo 16 e 7, con Sin Miedo, che adesso torna all'esterno di Scheggia Almar, va a dare un'altra puntata alla leader, che reagisce però allungando, Sin Miedo viene di un altro parziale al chilometro, Sin Miedo vola via in un parziale solo, in 300 metri Scheggia Almar, prova a tenere le gambe di dentro Lucio Becchetti, ma il sorpasso è completato, all'inizio della curva conclusiva, frazione veramente vemente, quella che ha chiuso la retta di fronte in 13 e mezzo, adesso Sin Miedo è padrone della situazione, Scheggia Almar, ancora qualcosa da dire, ma è preda di Santa Monica di VS, in mezzo alla pista finisce forte Sharif Deiroum, poi prova unirsi alla lotta anche il numero 7 di Subsonica Griff nel finale, Sin Miedo spazia a piacemente, viene ad affermarsi in maniera netta, da cavallo superiore, secondo posto per Santa Monica di VS, per il terzo, andiamo a rivedere di dentro, andiamo a rivedere le immagini della telecamera apposta dall'alto, sembrerebbe la giuba di Giorgio D'Alessandro, che dovrebbe essere in sulchia a Samsara, ma andiamola a rivedere, nel caso sarebbe una grossa sorpresa, 1'13,2 l'ultimo chilometro, Sin Miedo doveva essere, Sin Miedo è stato, 1'46 la quota al totalizzatore per l'allievo di Davide Di Stefano, che quindi sigla una bella vittoria, vediamo le immagini che scorrono sul traguardo, il secondo posto è per il numero 12 di Santa Monica di VS, al terzo dovrebbe essere il numero 8 di Stelvio Live, sul 5 di Schedule Marre e il 6 di Sexy Model, e allora era il numero 8 di Stelvio Live al terzo posto, diamo un ordine d'arrivo ufficioso per questa Tris Quartè Quintè, quindi al primo posto Sin Miedo, numero 14, al secondo il 12 Santa Monica di VS, al terzo lotto Stelvio Live, e poi Schedule Marre e Sexy Model, numeri 5 e 6 dello schieramento, questo è l'ordine d'arrivo ufficioso per quanto riguarda questa Tris Quartè Quintè, Emanuele Cardona vi saluta dall'ippodromo delle Capannelle, vi dà appuntamento a dopodomani, venerdì 4 dicembre, per una nuova giornata di Corsi al Trotto, che vedrà la disputa anche della Corsa Seconda Tris. È tutto, buona serata. Grazie. 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 Grazie.